C'era una volta... Una volta quando? Direte voi. Beh, non lo so, una volta. C'era una volta una bambina. Come si chiamava? Un momento, adesso ci arrivo. C'era una volta una bambina che si chiamava Silvana. Silvana abitava a Bracciana. Beh, veramente Bracciano. Ma è per la rima, no? Vabbè, Silvana abitava a Bracciano, in una casa a due passi dal lago. E Silvana amava tantissimo il lago, specialmente d'estate, poco prima del tramonto del sole, quando l'acqua e l'aria intorno sembravano colorati con i pastelli che lei usava per i disegni. Un po' di verde chiaro qua, un po' di rosa là, un po' di giallino lì, un po' di celeste qui. Un pomeriggio d'estate Silvana era andata al lago col suo retino da pesca. Le piaceva pescare, però ogni volta che prendeva un pesciolino lo metteva di nuovo in acqua. Che pescava a fare allora, direte voi? Boh, forse non voleva pescare pesci. E che cosa allora, ribatterete voi? Non lo so, non posso mica sapere tutto, eh? Quel pomeriggio d'estate, comunque, i colori erano così soavi, e l'aria così tiepida, e il suono dell'acqua così dolce, che Silvana, seduta sulla riva, si addormentò. E quando si svegliò, le capitò un fatto incredibile. Incredibile! Uh, mi sono addormentata! Ma che cos'è questo rumore? Sembra il rumore di una barca, una barca grossa, ma non ce n'è nemmeno una sul lago. Però l'acqua si muove, si muove tanto! Mamma, un mostro! È uscito un mostro! Ciao, come ti chiami? Sì, sì, sì! Vuoi parlare un po' con me? Sì, sì, sì! È tanto che non parlo con un umano! Aspetta che mi siedo di nuovo! Uff, mi sono spavento! Invece, sai, la tua voce mi ricorda quella di mio nonno, quando mi racconta le storie. Tu come ti chiami? Alcuni umani che mi hanno visto mi chiamano Lok Sab. Sai, sì, 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 io abito qui da quando ancora il lago non c'era. C'era un vulcano. Eh, sì, l'ho studiato a scuola. Comunque io mi chiamo e io vivevo nel fuoco, dentro il vulcano. Nel fuoco? Beh, chiaro, sei un mostro. Cioè, in senso buono, non volevo offenderti. Forse sai anche che quando il vulcano esplose, la camera magmatica dove abitavo si empì d'acqua. Empì? Vuoi dire riempì? E come hai fatto a non affogare? Ecco, il mio desiderio di vivere era così forte che mi sono adattato. Riposo sottoterra, ma ho imparato a respirare sott'acqua. Come i pesci? Ma adesso stai un po' fuori dell'acqua. Ogni tanto emergo e respiro nell'aria, ma posso farlo per poco tempo. Però vivevi nel fuoco, ora nella terra e nell'acqua e un po' pure nell'aria. Sei molto sveglia, sì, sì, sì. Veramente io mi chiamo e anche coraggiosa. Beh, grazie. Senti, dato che vivi qui da tanto tempo, Forse puoi dirmi se è vera una storia sul lago che si racconta. Dice che c'era una città che si chiamava Sabazia e che gli abitanti erano tanto cattivi. E allora Dio l'ha coprit'acqua e così adesso c'è il lago che si chiama Sabatino, anche se tutti lo chiamano lago di Bracciano. Voi umani avete tanta immaginazione, è solo una fola. Una è solo una leggenda. Beh, sai, lo sospettavo. Una di quelle storie che raccontano per dirci di non essere cattivi. Senti, ma tu non ti annoia stare solo solo sotto il lago? Solo, veramente sono in buona compagnia. Comunico con il luccio, il coregone, la biscia d'acqua, con il cigno, le anatre. E quando emergo, con il nibbio, gli aeroni, la bianca garzetta e anche con creature vegetali, l'alga candelabro, la ludvigia dal bel fiore giallo. Tutti noi comunichiamo, anche i più piccoli. E più comunichiamo, più c'è forza e vita. Adesso purtroppo ti devo salutare, ho bisogno di immergermi, sì, sì, sì. Eh sì, ma io mi chiamo, è stato bello parlare con te. Anche per me, ciao. E mica è finita qui, perché dopo che il mostro si era immerso e l'acqua era tornata calma, sì, 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 cioè volevo dire Silvana, vide tutto intorno al lago come un girotondo di luci, anatre, aeroni, alghe, cavallucci marini. Come dite che i cavallucci marini non vivono nei laghi? Vabbè, saranno stati cavallucci lacustri allora, no? A Silvana sembrò che questo girotondo di esseri viventi volesse parlare con lei. Ma forse l'ha solo sognato. Poi che dite? Loc Sub di Sonia Boffa Legge Sonia Boffa